facciamo un percorso di prima eccomi si fk fa niente riesco a ammazzare ho provato a ammazzare quella ma è troppo forte no è troppo forte voglio tentare di saltare su di là andiamo a ammazzare l'uccello non ne trova la nata stata l'uccello non riesco a uccidere vedi quello la ho trovato guarda cosa ho trovato ah è passapupu guarda che ho trovato grazie a tutti